Le rane vivevano in quantità enormi nelle paludi del Nilo anche nei tempi antichi. Si conoscono le seguenti parole per rana, abeken, o, kerer. In scrittura il girino efan o efener o eferen, era usato per scrivere il numero 100.000, efen uguale efhi, in riferimento alla quantità dei girini che pullulavano nelle acque. Dalle rappresentazioni plastiche, è difficile definire il tipo di rana che circolava negli acquitrini. Sembra possibile che fosse la rana Esculenta o la rana Mascariensis. Il termine rospo non appare nel WB, ma pegeget, potrebbe indicare il batrace. I rospi erano probabilmente raffigurati sui cosiddetti coltelli magici del Medio Regno. Questo oggetto è stato realizzato su un canino di popotamo, animale associato alla Dea Tueris, che gli conferiva virtù protettrici relative all'infanzia e la protezione delle partorienti. Come si vede, appare la rana, o il rospo. La Dea Tueris, un animale apparentemente setiano e altre entità, tra le quali un felino, un coccodrillo e un cobra, tutte legate al mondo di divinità protettrici in vari contesti. Sembra che questi avori magici siano serviti a tracciare intorno al luogo del parto o dall'attamento un cerchio apotropaico, proprio posto sotto la protezione delle entità raffigurate, e sicuramente con la pronuncia di formule magiche. Inoltre la loro forma tonda suggerisce la loro applicazione sul ventre della partoriente, data anche la presenza alcune volte del nome del nascituro. Altri oggetti in cui compaiono la rana, il coccodrillo e anche la tartaruga, sono i bastoni magici. L'esempio qui presente è composto da tre elementi, dei quali quello centrale più lungo, con una serie di sette immagini di animali, una tartaruga, due rane, due leoni accosciati e due coccodrilli. Infine sui lati degli elementi compaiono l'occhio uia, una fiamma, un babbuino seduto, e teste di leopardo rappresentate di prospetto. La tartaruga rappresenta l'entità che aiuta il nascituro a raddrizzarsi quando esce dal ventre materno e consumare la placenta e il liquido amniotico espulsi durante il parto. La tartaruga, del genere Trionix, è capace di passare dall'acqua all'aria, come il sole emergente dall'oceano primordiale all'alba della creazione. Il coccodrillo può essere rappresentato con le fauci chiuse o aperte. Questa dualità corrisponde a due caratteristiche del rettile. Bocca chiusa quando caccia sott'acqua, gola aperta quando si riposa sulla riva per far evaporare l'umidità boccale. Parallelamente, il comportamento del coccodrillo che si riposa nell'acqua durante la notte ed emerge all'alba, è associato alla rinascita quotidiana del sole che emerge dall'oceano primordiale. La rana, oltre al suo carattere anfibio, è rappresentata tradizionalmente alla dea Eche. Eche, il nome della dea è identico al sostantivo Eche, rana. Assisteva alla formazione del feto e presiedeva alla nascita. Nei testi delle piramidi aiutava il re defunto nel suo viaggio celeste. La sua connessione con il parto appare per la prima volta nel racconto del papiro Westcar. Il potere di Eche di dare vita derivava dalla sua associazione con la famiglia di Osiride e con l'aldilà. Era considerata moglie di Aroeris e venerata come controparte femminile di Knum. Eche era rappresentata come rana o come donna con testa del batrace. La rana ha svolto un ruolo importante come simbolo di resurrezione. Il geroglifico della rana è stato usato sin dal nuovo regno come indicazione del risveglio del defunto per scrivere Wem Ankh, vivere di nuovo. Una delle caselle del gioco zenet è chiamata Wem Ankh. Essendo un animale sacro, la rana apparentemente non era adorata, o solo in contesti molto limitati. In conclusione, a differenza delle teorie di pericolose divinità e geni mobilitati, per fini apotropaici, su avori magici, il repertorio iconografico di bastoncini di pietra sembra piuttosto organizzato attorno a entità pacifiche. Questa decorazione si basa su due concetti essenziali e complementari. Il ciclo delle rinascite solari e il passaggio dall'ambiente notturno e acqueo, evocativo dell'oceano primordiale non creato e non organizzato, alla luce del giorno. Su questa lettura di base sono probabilmente innestati altri concetti. La protezione per il neonato contro il pericolo che presenta nel momento in cui nasce capovolto, con l'assorbimento da parte della tartaruga degli umori prodotti durante il parto, cioè il liquido amniotico e la placenta.